ciao questa è la scena precedente nella quale un po come avevamo fatto per le foglie ho semplicemente aggiunto un animazione anche all'erba o la potete vedere qui ho aggiunto ai tre alle tre foglie d'erba un unica un unico keyframe nel quale si curvano e gli altri sono ottenuti tramite interpolazione e quindi vedete c'è un po di questo effetto al vento per variare un po la posizione tra di essi nel modifier time offset avremo modo di vedere modifier ma quello che abbiamo usato per creare il loop notate che c'è questo frame offset 10 che vi permette di cambiare diciamo il punto di partenza e quindi io a un erba l'ho lasciato a uno nelle altre l'ho cambiato da 10 a meno 20 in maniera che non corrispondano esattamente che non siano tutte perfettamente allineate le tre istanze nascondo di nuovo gli oggetti originali e ho il mio piano con con l'erba che si muove i sassi ovviamente non hanno bisogno di animazione allora come possiamo creare un sistema particellare di questo tipo per diciamo popolare una zona con tante istanze di oggetti grease pencil possiamo tornare a utilizzare queste foglie che avevamo e che sono ancora qui che che si muovono solo che ovviamente sono enormi e si trovano qui sono quelle iniziali che avevamo fatto all'inizio posso utilizzare dei sistemi particellari anche per emettere queste foglie quindi posso creare di nuovo un piano lo ruoto in maniera quindi sull'asse y in maniera che sia qui in verticale e lo porto fuori dall'inquadratura all'incirca e lo faccio bello grande anzi facciamolo proprio si allunghi in lunghezza applico la scala adesso si trova un po all'interno dell'inquadratura posso spostarlo ancora un po sull'asse x eccolo qua fino a quando non esce se a questo piano invece che un sistema particellare di tipo hair crea un sistema particellare di tipo emitter significa che le foglie vengono emesse da questo piano mi sposto fuori dalla telecamera momentaneamente per vedere cosa succede emetto mettiamo 500 elementi comincio non sul primo fotogramma ma comincio a meno 50 in maniera che ce ne siano già alcuni la mia animazione arriva fino a 250 posso smettere di emetterli a 200 però voglio che vivano almeno 300 perché se nascono meno 50 se vivono 300 sono sicuro che siano in scena che non scompaiano a un certo punto e vedete che appaiono e scendono tutte queste palline scendono perché non hanno alcuna velocità io potrei dargli una certa velocità rispetto alla normale del piano quindi 3 metri al secondo e adesso se io questa l'alza sia 50 metri al secondo vedete partono via prima era uno e cadono subito 3 metterli appunto a 10 metri al secondo e vedete cadono già in questo modo se io ruoto il piano così e magari lo porto ancora un po più fuori stanno partendo tutte ecco il piano si è animato per sbaglio perché aveva ancora la registrazione premuta quindi disattivo la registrazione e cancello l'animazione qui nel piano sotto animation la tiro via clear animation data adesso il piano torna dove era quindi vedete adesso ci sono queste particelle queste particelle possono essere sostituite con le foglie quindi di nuovo qui sotto render posso scegliere collection scegliere le istanze che stanno dentro la connessione foglie scegliendo pic random in questo caso utilizzo la rotazione dell'oggetto la scala deve essere così è enorme ecco vediamo dalla telecamera e potrebbe essere 0,2 e anche perché no una certa variabilità nella scala e vedete adesso ho tutta una quantità di foglie che volano non stanno facendo qualcosa di carino perché manca diciamo il vento quindi adesso riduco l'intensità alla quale vengono fatte uscire e creo anche una forza force field wind eccolo qua adesso il vento lo giro in questa direzione e lo faccio diventare molto più forte quindi che ne so forza 20 vediamo che fa vedete spinge le foglie in questa direzione lo porto vicino al piano giusto per tranquillità forse devo facciamo forza 30 no è un po troppo forza 15 sì è un po meglio però le foglie cadono per terra di fronte alla telecamera e la attraversano questo non è quello che voglio e quindi in questo caso giro il vento verso l'alto ecco troppo ecco l'importante è che non mi non mi finiscano diciamo per terra quando sono ancora dentro la telecamera ok sono un po sono un po tante per cui posso tornare questo è il emissione foglie sono un po troppe magari facciamo 250 ecco qui ho creato un gradiente per il cielo e ho anche selezionato nel nel playback il frame dropping invece di play every frame perché ho notato che blender non riesce a mostrarmi l'animazione nel tempo diciamo vero dell'animazione ma riesce a mostrarmelo solo a 10 fotogrammi al secondo e quindi scegliendo frame dropping quello che succede è che mantiene comunque la vera il vero effetto di timing dell'animazione quindi ho un'anteprima perfetta ma butta via qualche frame non me lo mostra in cambio di riuscire a mostrarmi l'animazione effettivamente per quella che è è molto facile che la scena si popoli di molto utilizzando queste tecniche diciamo perché stiamo ripetendo gli stessi oggetti per avete visto centinaia di stanze e quindi è abbastanza facile ingolfare la scena con molti elementi immaginate quante altre cose possiamo realizzare grazie alle simulazioni esistenti abbiamo utilizzato semplicemente un po di vento e due piani uno con degli air e l'altro con un emissione e abbiamo ottenuto questo ci si può divertire in molti altri modi grazie e alla prossima grazie a tutti